salve a tutti ragazzi qua è frizzi che vi parla allora siamo su line of sight si avete capito bene line of sight è un free to play per adesso non so se più avanti sarà un gioco cioè completo quindi ecco disponibile su steam qua abbiamo tre slot c'è un inventario con tre slot all'interno della partita a quanto pare allora ho fatto una mezza partitina ragazzi e non so che cacchio sia successo prima ma è crashato il mondo c'è praticamente proprio i server di steam sono caduti giù tra l'altro io sto giocando ad un orario lasciamo stare ragazzi non c'è manco un italiano io ho incontrato portoghesi e russi russi portoghesi ingresi messicani americani ragazzi lasciamo stare ma lo sto cercando di per l'appunto ecco duello è un po ragazzi ha trovato duello perfetto il duello quattro giocatori si sono uniti party member gioco zero giocatori giocatori vabbè già iniziamo bene tradotto un po male il duello ragazzi che cos'è un hangar la mappa da duello ragazzi una figata wow uno contro uno ragazzi contro se casuali mappe casuali uno contro uno vediamo un po chi siamo rustic age si chiama la mappa ok no ragazzi che c'è contro russi ragazzi sono contro i russi no vabbè io qua devo capire bene ancora lo switch dell'arma flits l'ex gold c'è contro i russi ragazzi una partita contro flits contro i russi italia contro russia ok ragazzi romashk 4 contro flits allora vediamo un po e niente proviamo ragazzi proviamo uccide nemico va bene ok via ragazzi io i tasti non li ho modificati quindi porca vacca ragazzi che sistema strano ah c'è lo zoom azionato maledizione mi sa che devo modificarlo perché è tutta breve ragazzi scusate ma sono inesperto su sto giochino la mappa è fatta bene però deve essere sincera la mappa è molto sembra molto da competizione c'è no il disegno della mappa lì in fondo sulla sinistra porca vacca mamma mia ragazzi questo mi farei culo vabbè giochiamo seriamente dai no eh giochiamo seriamente un cazzo no eh sì devo togliere questo zoom azionato perché dà fastidio ragazzi veramente non lo so mi ricorda tanto un code e per l'appunto combat arms però è molto meglio ragazzi mamma mia che cosa gli ho fatto è molto meglio di combat arms quindi ah non si può oh porca troia se mi ha mancato sei un cesso e niente vediamo un po headshot ragazzi headshot mamma mia ragazzi cosa gli ho fatto 2-1 ah durano pochissimi round già ho vinto velocissimo ragazzi velocissimo wow easy è certo che easy contro flitz ti voglio ammettere tra l'altro questa è la mia prima volta che sto giocando in questa versione ah aspetta ho capito moto account ecco fino a quanti round round 2 ok zaikunov rank 2 già questo già 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 livellato va bene ok va bene va bene già conosce la mappa meglio di me se non è tre russi contro l'italiano ragazzi non ci arrendiamo gli faremo il culo a sti russi tra l'altro sono le 4 di notte ragazzi voglio precisare sono le 4 e 5 in questo momento cosa no devo regolare mamma mia ragazzi mamma mia che cosa hai fatto dentro il muro bellissima sta partita a mio gusto ho già iniziato bene no va bene no 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 ho iniziato male in effetti mo dimmi perché ho tirato quella maledetta granata ma cazzo sta ma oh porca troia no l'ho vista scusate ragazzi non stavo guardando la mappa perché sono troppo concentrato cioè ho paura che poi eccolo zoccola muori dove sarà mai ragazzi basta no no mi ha ucciso 3 e 2 mamma mia pensavo che avevo perso ragazzi pensavo che avevo perso stavolta perfetto dai 3 e 2 quello è salito in seconda posizione la mask l'abbio battuto prima 6 kill lui ha fatto 1 kill in più rispetto a me ok contro l'ex god ragazzi ok va bene va bene ok 4 questo dirà in 4 livello 4 oh voglio e qua guardiamo ragazzi 6 ma cosa fai sıkugola sa memoria questa qua questa qua poi tra l'altro non è che ci voleva un genio ma vediamo un po' devo guardarelen più la mappa perché la mappa mi dice almeno diciamo come Eccolo là E porca troia Mi ha beccato con la granata Pezzo di merda Ti faccio il culo russo Ti faccio il culo Maledetto bastaso No vabbè Stavo scherzando No raga Cosa io ho fatto ragazzi Cosa io ho fatto Scappa perché c'è pochissima vita No cosa L'avrò ferito almeno Che cazzo di hitbox Di merda Col cieco non dovresti Essere hitato Dovresti morire All'istante Lui sei bastaso Sto qua No come faccio a sbagliare C'è non lo so C'è cerca di fotemi ragazzi Comunque i tasti sono intuitivi eh Perché anche su altri fps Tipo Warface O altri Giochi come questi Diciamo A livello di tasti ci siamo Borca vacca Se questo O questo se le scappa ragazzi No No Ma quando l'ho ucciso Una volta Vediamo Sì una volta ho fatto Una kill Vabbè come kill Sta vincendo Romash Però A livello di punti Quindi ragazzi Non ho manco perso una volta Ci sta Romash Di nuovo Eh rank 3 Ma questi livellano Io no Porca vacca Eh vi devo menare Allora Vi devo proprio bastonare Vediamo un po' ragazzi Vediamo un po' che cosa Riusciamo a fare Ok Lui sta lì sotto Perfetto Mo' devo giocare più Con la mappa Perché Cosa io ho fatto ragazzi No L'ho visto Ecco lo switch Ho capito lo switch È su Q Perfetto Io Mo' me ne sono accorte Che è su Q Lo switch Bello ragazzi Bello Bello Mamma mia Però è lentissimo Devo migliorare Lo switch dell'arma Ma proprio io Emanuele mental A livello di destrezza No Con le macro di cazzo Come dite voi Mamma mia No ragazzi Mamma mia 3-0 Questo è partito malissimo Quando di me Già capito che Cosa io ho fatto ragazzi Cosa io ho fatto Mamma mia Non potete capire 4-0 Ma una figata No 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 Non posso mancare così Cristiano Eh vabbè Devo bilanciare anche La sensibilità Perché C'ho mouse di merda Ok Ok va bene Va bene Sì 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 Ok Eh no niente ragazzi Eh Destino Quando non ci becchi È così Oh molly Eh muori Questa volta Tutto beccato 5-1 ragazzi Questa ha perso In partenza Ha proprio in partenza Ha perso ragazzi E qua Secondo me Senza guardare La fottuta mappa Ragazzi HS Wow L'ho L'ho distrutto L'ho distrutto Cosa devo fare Ok ATPC Easy 12 kill Ragazzi L'ho distrutto L'ho distrutto Proprio Staccato Ok Oh Prima kill ragazzi Mamma mia C'ho una certa Tensione Però amo Ognuno contro uno Ragazzi Non per qualcosa Ma tanta roba Mamma mia Tanta roba Devo migliorare Di cieco ragazzi Devo migliorare Sì sì Decisamente Quindi se cammini piano Non vieni spottato Sulla mappa Figa Cioè una figata Non figa Muori Bobby Eh Eh Shot C'è Kuno Mamma mia Zekono Sei proprio Cattivo Spero che Tu sia una femmina Perché Ti insulterei Cazzo No dai No Non posso mancare Una cosa Muori No niente Ragazzi Pure questo Mi sa che è perso Se rimaniamo così Belli Belli Furtivi Mamma mia Cosa io ho fatto Ragazzi Sto sudando le shell Dovete credermi Sto sudando le shell Porca troia Bast- Ma- Oh oh Muori Madò Con l'ultimo colpo ragazzi Cosa Gli ho fatto Una giocata epica 5-1 L'ultima kill È stata epica Cioè bellissima Ok Wow 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 Allora vorrei capire come Cioè Quando si finisce Ah final round Ok perfetto Ragazzi Ultimo round Questo è livello 4 Ragazzi Non Abbassiamo la guardia Perché questo è veramente fortino Tra l'altro non conoscendo il gioco Gli sto a fa' culo Sti 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 Russi di merda Senza Nulla da togliere I russi Poveri anzi Sennò va a finire che viene Putin E mi Bombarda la casa No raga No no Guarda quello Oh Headshot ragazzi Che figato Bellissima No lo splatter Proprio è Spettacolare Un gioco splatter Questa cosa ragazzi Il sangue proprio Si vede proprio Su tutto lo schermo Bellissimo Bellissimo Mi piacciono questi effetti Ok Cosa dovrei fare Ragazzi Eccolo Eh l'avevo visto infatti Sulla mappa Bastardo che Si sta facendo Di giro E' un bastardo Ragazzi Perché lui mi vede Ovviamente Ogni tanto Ad ogni spostamento Viene Come si dice Oh l'ho ferito Muore E dai Bobby Headshot Achievement Oh ho sbloccato Una achievement Ragazzi Eh raga Ci vuole Sto a fare un sacco Di headshot No Cosa No Muori Bobby Mi scusi Lex Adesso Puoi anche essere Di livello 4 Livello 46 Ma fai cagare A posto ragazzi Mi sa che abbiamo Stravinto Li ho distrutti Loro due parità Quindi non ha fatto un cazzo Quindi ragazzi Spero che questo video Ecco mi sia piaciuto Mi sia piaciuto E Spero di portare Un altro video Rientrando nei tempi Previsti Ecco Vediamo un po' Vittoria ragazzi Un italiano Contro Quattro Contro Quattro russi Loro russi sta in giù E l'Italia sta su E niente ragazzi Al prossimo video Ciao belli